Mucci shots. Oggi insieme degusteremo queste meravigliose specialità presenti all'interno di questo kit degustazione. Sono Christian Mucci e rappresento la quarta generazione della famiglia Mucci. Ad Andrea produciamo confetti e dragè dal 1894 utilizzando da sempre materie prime di altissima qualità e garantendo l'assenza di glutine su tutti i nostri confetti e dragè. Il kit degustazione Mucci shots è accompagnato da questa pergamena che va a sigillare la confezione e lo porteremo sempre con noi in quanto avremo modo e occasione di poter conoscere quali sono le materie prime presenti all'interno di questa confezione e quali sono le tipologie di confetti che degusteremo insieme. Un Deplian per poter presentare e raccontare quelle che sono le specialità che Mucci produce da ormai 130 anni con una cartolina e la famosa frase con i migliori auguri della famiglia Mucci. Questo foglio di acetato serve a proteggere i prodotti che ora degusteremo e ricordiamo sempre di avere dell'acqua possibilmente liscia perché qui avremo occasione e necessità di poter infrescare il palato. In alto a sinistra i famosi cristalli Mucci ripieni di aroma naturale di Mirto, una delizia straordinaria degustare ghiacciata. Un draget semplicemente unico per la sua forma ed eleganza, il fior di Mimosa ripieno di liquore limoncello, un omaggio a tutte le nostre donne. Perfetto connubio, cristalli di anice Mucci, un'altra delizia straordinaria degustare sempre ghiacciati. Il momento giusto per poter infrescare il palato con dell'acqua liscia. In basso a sinistra, drageri pieni di liquore vodka pesca, straordinario colore realizzato solo ed esclusivamente con coloranti naturali. Questa degustazione è molto molto intensa perché tutti i prodotti presenti nel Mucci Shots sono solo ed esclusivamente super alcolici. Ed ecco qui il cognac Courage, unico nel suo colore ma anche nella bontà. Come non utilizzare il prelibato ed eccellente olio essenziale di bergamotto per creare questo drageri da un colore unico e straordinario verde paglierino. Molto elegante ma soprattutto raffinato per il palato ricordando che tutti i nostri drageri pieni di liquore hanno una forza alcolica di 31,6 gradi. sempre disponibile per la nostra degustazione acqua liscia. Deliziosi drageri realizzati con room invecchiato 7 anni, una meravigliosa specialità semplicemente unica. Al centro a sinistra, ottimo connubio, sambuca all'interno e delizioso cioccolato miscelato con crema di caffè. Una bontà unica per creare un connubio perfetto al palato. Ultimo sorso d'acqua liscia perché l'ultimo confetto che degusteremo è il più importante di tutti. Elegante, signorile, prezioso. I famosi confetti Princess Margot nati da una vera storia d'amore. All'interno grappa e peperoncino con delizioso cioccolato fondente ed una delicata confettatura con questo effetto maculato. Vi saluto e vi aspetto per la prossima degustazione.